Oggi siamo a Pisa presso lo studio del dottor Dell'Amico, che ha gestito sotto la guida del dottor Gianluigi Talara, Master Clinical Trainer Navident, il suo primo caso. Che impressione ha avuto dottore? Un ottimo apparecchio, ti permette sicuramente di raggiungere una precisione nell'inserimento degli impianti che fino a poco tempo fa era impossibile poter arrivare. Tra l'altro abbiamo potuto anche rivalutare dopo con il controllo del lavoro facendo un'altra tag, abbiamo potuto controllare la precisione che è venuta fuori dall'intervento. Addirittura c'è stato un errore di zero gradi su un impianto e di quattro gradi sull'altro. Ovviamente questa mano libera non è possibile fare. Benissimo dottore, grazie per il suo feedback e in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.